Wewe ragazzi e bentornati! Oggi parleremo degli eroi da paura Il set da paura, ovvero quello musicale, è un set davvero molto particolare Nel precedente episodio abbiamo visto tutte le armi di questo set Mentre in questo episodio andremo a vedere tutti quanti gli eroi Cercherò di darvi la mia opinione su ognuno di questi eroi E cercheremo di capire anche quando è meglio sfruttare un eroe piuttosto che un altro Per prima cosa dovete sapere che i bonus che conferiscono questi eroi sono completamente identici Ciò significa che utilizzare Wildcat Breakdance piuttosto che Pennypop Piuttosto che Sport Hero, Queen alla ribalta oppure Dennis È assolutamente identico per quanto riguarda il bonus che vi conferiscono Attenzione! La cosa che li contraddistingue gli uni dagli altri è la modalità di innesco Cioè cosa significa questo? Significa che ogni eroe ci dà la possibilità di entrare in modalità riff roccheggiante Attenzione! Se poi abbinata anche al vantaggio squadra di Totalmente Rock Entreremo in riff roccheggiante e in Totalmente Rock Questo però lasciamolo un attimo da parte se no facciamo troppa confusione Parliamo un attimo prima senza il vantaggio squadra del Totalmente Rock Quindi il bonus che vi conferiscono è assolutamente identico sia sulla velocità d'attacco e sia sui danni Cambia solamente il modo in cui vi danno questi bonus Quindi semplicemente Wildcat Breakdance eliminare 10 nemici in 9 secondi conferisce riff roccheggiante Riff roccheggiante che cos'è? Aumenta i miei danni del 50% e la mia velocità di attacco da mischia del 32% Con un effetto che decresce nell'arco di 8 secondi Ciò significa che appena entriamo in modalità riff roccheggiante abbiamo questi valori massimi inizialmente E piano piano andiamo a scendere nell'arco appunto di 8 secondi Comunque come comandante invece eliminare 4 nemici in 9 secondi conferisce riff roccheggiante Quindi anche qui tra il vantaggio standard e il vantaggio comandante Cambia solamente il numero di uccisioni che dovete ottenere per entrare in questa modalità appunto Ecco diciamo che comunque Wildcat Breakdance secondo me si abbina a tantissime build Indifferentemente comunque dalle armi che utilizzate E' un po' buggata nel senso che comunque molte volte non è richiesto veramente che arriviate a 9 uccisioni in 10 secondi Anzi mi ricordo una discussione su Reddit dove facevano notare questa cosa che non al 100% Ma moltissime volte comunque vi basta anche ottenere 5 uccisioni nella metà tempo dei 9 secondi Quindi magari 4 secondi e mezzo no? Ecco per questa sorta diciamo di matematica molte volte entrate in totalmente rock comunque Comunque 10 uccisioni in 9 secondi è molto più semplice ovviamente ottenerle con un lanciarazzi Ottenerle con armi a distanza che comunque effettuano magari un danno ad area Parlo per esempio magari dell'AR mitico piuttosto che magari armi musicali o fantascientifiche Ovviamente non è indispensabile anche utilizzando magari che ne so la nota dolente Se riuscite a comunque uccidere abbastanza zombie riuscirete comunque a sfruttare il vantaggio squadra Molto più difficilmente chiaramente Più è forte l'arma che utilizzate più danno ad area fa più facilmente comunque riuscirete a sfruttare la sua perk Nel complesso comunque Wildcat Breakdance io lo utilizzo veramente molto spesso nelle mie build Specialmente quando poi magari vado a fare il re mitico in caso non trovo i buffer Sappiamo che comunque per attivare il vantaggio di totalmente rock dobbiamo per forza mettere due eroi musicali Quindi io mi affido anche un po' su di lei quando per esempio magari non trovo i buffer Utilizzo magari o il di atomizzatore ma al che vada comunque lanciarazzi mitico caricato Per infliggere un danno ad area comunque cercare di entrare in modalità rifroccheggiante E quindi anche lei è un po' variabile dipende molto anche dalla situazione in cui vi trovate no? Ma adesso passiamo agli altri eroi Il prossimo eroe del set musicale che andremo a vedere è Penny Pop avanzata Il suo vantaggio standard le eliminazioni con gli attacchi pesanti danno il 12,5% di possibilità di ottenere il rifroccheggiante Mentre come comandante le eliminazioni con gli attacchi pesanti danno il 40% di possibilità di entrare in rifroccheggiante Quindi indovinate un po' io questo eroe lo preferisco utilizzare per esempio con Sara Anticoccole Quando magari utilizzo lo schianto su round in missione spammato Quando utilizzo il castigamatti, il caposlitta, la spada mitica, la lama spettrale Ogni arma che comunque riesce a spammare l'attacco secondario diciamo che si abbina perfettamente a questo eroe Ed è vero la maggior parte di questi eroi non li utilizzeremo mai come principali Ma nelle build sono veramente ottimi anche senza il vantaggio di Totalmente Rock Ognuno di questi eroi messo nella build dà veramente la possibilità di boostare qualsiasi tipo di danno del 50% E questo 50% e ovviamente anche la velocità di attacco vale su armi a distanza, vale su armi da mischia e vale anche sulle abilità Comunque Penny Pop avanzata, ottima da inserire in qualsiasi build voi utilizzate Sicuramente l'avrete vista in moltissimi miei video E in pratica ragazzi ogni volta che riuscirete a spammare l'attacco secondario e uccidere zombie Poi va su probabilità quindi non è richiesto che magari utilizziate l'arma per uccidere tanti zombie uno dopo l'altro Vi basterà magari ucciderne uno e se siete fortunati entrerete direttamente in modalità rifroccheggiante no? D'altra parte invece se sarete molto sfortunati riuscirete magari anche a non entrarci su un gruppetto di zombie Comunque anche Penny Pop avanzata è un eroe assolutamente da non farsi scappare Sport Hero e qui abbiamo secondo me quello un po' più ambiguo di tutto il set I nemici eliminati hanno il 7% di possibilità di far cadere un pallone da football I palloni da football quando vengono raccolti conferiscono rifroccheggiante Mentre come comandante i nemici eliminati hanno il 23% di possibilità di far cadere un pallone da football Allora questi palloni da football despaunano quindi dovrete anche essere non velocissimi a prenderli Comunque rimangono in terra per abbastanza tempo per darvi il tempo di raccoglierli Però è da notare che comunque questi palloni da football dopo un po' despaunano E diciamo per cosa è comodo? Per cosa potrebbe essere comodo Sport Hero? Perché dovrei scegliere lui e magari non ritmo di battaglia o non evafer o qualcos'altro? Secondo me Sport Hero è utile nel momento in cui andiamo a utilizzare che ne so una build coi pompa Non è ottimale secondo me perché anche così potremmo mettere magari il ritmo di battaglia Però magari con molti pompa non riusciamo a ottenere le 9 uccisioni per entrare in rifroccheggiante Quindi affidarci sull'abilità di quest'eroe secondo me ogni tanto può tornarci utile Ma neanche fin troppo se devo essere sincero Ci starebbe utilizzarlo con i cecchini ma poi i palloni vanno raccolti quindi dovete comunque avvicinarvi Per le armi da mischia spammabili abbiamo visto che c'è Penny Pop Per le armi da mischia magari utilizzate normalmente forse ancora ancora questo potrebbe essere più utile In quanto già combattiamo a una distanza ravvicinata non c'è bisogno comunque di effettuare troppe uccisioni E se voglio entrare in rifroccheggiante così ogni tanto casualmente senza badare troppe spese Beh potrebbe essere una bella scelta Quindi secondo me utile utilizzato con una build coi pompa e con armi da mischia non spammabili Perché se le utilizzate spammabili ragazzi a quel punto Penny Pop corazza secondo me è molto meglio Poi potete anche decidere di utilizzarle tutte e due insieme per carità Così ogni tanto su probabilità mentre martellate e ogni tanto raccogliete qualche pallone da football in terra In sé sono eroi comunque molto simili cioè il vantaggio è praticamente identico Come dicevo prima cambia solo la modalità di innesco E dovete un po' organizzarvi in base a come giocate di solito come strutturate le missioni Se siete magari dei ragazzi che stanno fissi negli spawn a fare tot uccisioni con armi spammabili a quel punto mettete Penny Pop Se invece siete più giocatori da lanciarazzi a quel punto magari il ritmo di battaglia si addice già di più Beh insomma ve li sto descrivendo praticamente tutti Quindi continuiamo con il video e vediamo anche gli altri eroi Siamo arrivati a Queen la Ribalta ragazzi Questa non so quante volte me l'avete chiesta L'avrete sicuramente vista in mille video Ed è la famosa Queen la Ribalta che ci dà i buffer Basta inserire questi eroi nella vostra build E automaticamente raccogliendo oggetti di metallo darà il 32% di possibilità di ottenere subwaffer Come comandante pensate un po' addirittura raccogliere oggetti di metallo dal 100% di possibilità di ottenere subwaffer Quindi di per sé uno straniero neanche state a picconare tirate un cazzotto e via Waffer nell'inventario Utilissimi i waffer per esempio nella modalità del re mitico In quanto decidete voi quando utilizzarla Entrare in modalità rifroccheggiante e anche in totalmente rock In questo caso visto che comunque l'abbino molto spesso al vantaggio squadra di totalmente rock Nel momento in cui si arriva sul corno Biscottino tattico mentre state arrivando Quindi neanche potete perdere il tempo Subito switchate l'arma così arrivate già con l'arma in mano E già con il vantaggio squadra attivato no? I subwaffer sono molto molto comodi per questo fatto Perché si può utilizzare magari nei momenti più ambigui In endurance purtroppo ragazzi In endurance sapete non si fanno a metallo Quindi è molto difficile trovare i subwaffer Dico difficile perché probabilmente in qualche mappa Se lasciata originale qualcosa di metallo c'è ecco Non ne sono sicuro ma probabilmente si Forse a pietralegno non lo so Comunque utilissima anche per fare i test delle armi Come avrete ben visto su questo canale I waffer ci fanno sempre compagnia Ma perché ragazzi? Perché semplicemente decido io quando darmi il buff Quindi nel momento in cui incontro quello smasher casuale E voglio buffarmi Voglio testare quell'arma al suo massimo potenziale Ovviamente mi viene molto comodo utilizzarla Però non vi nascondo che ovviamente se non dovessi fare video Se non facessi queste cose specifiche La utilizzerei probabilmente esclusivamente soltanto nella modalità del re mitico In questo momento in questo periodo Qui nella ribalta ragazzi comunque è un eroe da non farsi scappare Come abbiamo ben visto nel re mitico si è dimostrata veramente utilissima E chissà ragazzi Chissà quali altre sorprese ci riserverà questo gioco In cui potremo utilizzare i subwaffer Mi raccomando mai farsi scappare nulla Eccoci arrivati ragazzi all'ultimo eroe Dennis Junior Le eliminazioni con l'ascia danno 11% di possibilità di ottenere il rifrockeggiante Come comandante invece il 37% di possibilità Quindi non una differenza così grande D'altra parte utilizzato come vantaggio standard L'11% risulta un po' pochino magari certe volte In questo caso Dennis è molto importante perché adesso è legato il vantaggio squadra di totalmente rock Quindi non è un eroe che utilizzo spessissimo nelle build se devo essere sincero Non è nulla di particolare Dennis Junior secondo me è utile nel momento in cui andiamo a utilizzare un'ascia normalmente Magari neanche spammabile Perché in quel caso secondo me è meglio utilizzare Penny Pop O magari tutte e due insieme no? Come vi dicevo prima D'altra parte comunque a Dennis è legato il vantaggio squadra di totalmente rock Quindi è sicuramente un acquisto o un incarico dipende poi come uscirà Oppure come è uscito dipende anche quando uscirà questo video Da non farsi scappare E questi erano gli eroi musicali ragazzi Assolutamente degli eroi fantastici Ma ricordatevi anche del vantaggio squadra che si abbina perfettamente a questi eroi In quanto oltre che attivarvi tutti i bonus comunque che abbiamo visto in questo video Otterrete anche il livello critico aumentato di 160 Questo sempre con un effetto che decresce nell'arco di 8 secondi Quindi partiamo da un livello critico di 160 Che non è mai il 100% ragazzi Attenzione perché il livello critico va su esponenzialmente Ciò significa che voi potete metterci tutte le perk di livello critico che volete Ma non otterrete mai il 100% di livello critico Si poteva ottenere con le armi legacy Sì perché con le armi legacy era la percentuale di probabilità critica Era una cosa differente prima Ora il livello critico è stato studiato in modo che vada su esponenzialmente Quindi è possibile boostare il livello critico assolutamente sì Ma non è mai possibile ottenere il 100% Almeno con lo stato attuale del gioco ovviamente E in più comunque ci cura per 73,75 di salute base Che diciamo non è sufficiente per tankare Non è sufficiente per sopravvivere in densità diciamo Ma è sufficiente ogni tanto per darci quella cura in più E sopravvivere magari a lungo no? Non è ai livelli né del survivalista Non è ai livelli assolutamente della fonte di bioenergia Insomma non è una cosa fatta per curare quanto più per darci quella vita in più ogni tanto no? Beh ragazzi questo era il video sul totalmente rock Sugli eroi musicali Spero di essere stato abbastanza chiaro su tutti loro Se comunque avete ulteriori domande non fatevi problemi E fatemele qua sotto nei commenti Io cerco comunque sempre di rispondere a quante più persone possibili ragazzi E detto questo ragazzi non posso fare altro che salutarvi Spero comunque che il video sia stato di vostro gradimento Se fosse così lasciate solo un bel pollicione in su mi raccomando Per oggi è tutto Bella bella Ciao 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 Ciao